Palazzo Leopardi. Il Palazzo Leopardi si affaccia sulla piazzuola che prese nome da una famosa lirica di Giacomo, il sabato del villaggio. L'attuale sua struttura, imponente costruzione del XVI secolo, è frutto dell'unione del vecchio edificio e dell'ultimo restauro eseguito nel Settecento dall'architetto Carlo Orazio Leopardi, prozio del poeta, di cui si può ammirare la facciata in cotto da lui disegnata. Negli altri lati della famosa piazzola sorge a sinistra la chiesa di Santa Maria di Montemorello, costruita da Pier Nicolò Leopardi nella seconda metà del Cinquecento. Di fronte sta l'edificio delle scuderie che un tempo ospitava nei piani superiori alcune famiglie di domestici, tra cui quella della Teresa Fattorini, celebrata poi dal poeta come Silvia. I giardini, luogo dei giochi di tante generazioni di bimbi, sono situati nella parte posteriore del palazzo. Un tempo la famiglia possedeva anche gli spazi ad essi confinanti, fino a che nella prima metà del Quattrocento Blancina Leopardi li donò per la costruzione del convento di Santo Stefano, ora sede dell'Istituto Centro Mondiale della Poesia. L'intero primo piano, sopra le vecchie cantine, è occupato dalla famosa biblioteca, mentre il resto dell'edificio è abitazione della famiglia. Per accedervi si sale un ampio scalone settecentesco, anche questo opera dell'architetto Carlo Razio Leopardi. Sulle pareti sono murati alcuni reperti archeologici raccolti da Monaldo, che pose anche fra due colonne l'architrave marmoreo, un tempo sul vecchio portone, con una scritta beneagurante, unica testimonianza dell'antica struttura del palazzo. La biblioteca accoglie più di 20.000 volumi, di cui la maggior parte ivi raccolti ed ordinati da Monaldo Leopardi, padre di Giacomo. L'attuale percorso della biblioteca non rispecchia in pieno la sistemazione iniziale, ma è stato dettato dalla necessità di adeguarsi alle vigenti norme di sicurezza. La collocazione dei volumi e dei ricordi è tuttavia rimasta inalterata dal tempo della sua Costituzione, come attestano le schede della catalogazione compilate da Monaldo e dai suoi figli.